le energie mentali sono molto meno di quelle fisiche infatti ragioni meglio fisicamente siamo molto meglio di come stiamo mentalmente che 24 giorni ma no domi siamo più stanchi mentalmente che fisicamente tommy che ritiro è per te questo numero è che io so ma a che stagione siamo tommy 40 39 non si dice non si dice non si dice che è un bel ordine lo sai che mi ha iniziato a piacere mi ha iniziato a piacere anche a te una telecamera ci deve essere per forza lì davanti ma se c'erano cose di parlare e tu devi parlare qualcosa è la foto di una fotocamera di video questo è quando le ragazze vanno così perché ti vogliono bene non ci sono Buonanotte! Buonanotte! Ehi, fai lì! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.